E' una luna che vi fa sentire il peso di certi rapporti, per esempio professionali, che non vi stanno più bene perché c'è qualcuno che non è d'accordo con voi, qualcuno che vi critica, qualcuno che vi crea dei problemi. Allora questa è una luna rivoluzionaria che tende proprio a sconvolgere un pochettino certi rapporti. Quindi non mi sorprenderei se qualche pesciolino in questa giornata deciderà proprio di cambiare frequentazioni, magari cambiare posto di scrivania sul lavoro. Insomma avete bisogno di respirare un'aria nuova perché questa luna vi soffoca un pochettino e sul lavoro invece avete bisogno proprio di cambiamenti, di stimoli nuovi, di novità. E devo dire anche in amore perché questo Marte nel segno dell'acquario è un Marte che vi fa sentire il distacco dalla persona che vi sta vicino e quindi c'è bisogno di un riavvicinamento. Magari non sarà oggi, sarà nei prossimi giorni, ma alla fine l'amore trionferà laddove c'è. Amici è tutto per...